Il Comune di Feltere ha assegnato la gestione dei siti museali cittadini alla ditta rodigina Acqua SRL che gestisce servizi di accoglienza, informazione turistica e biglietteria nei musei e centri visite del Parco del Delta del Po e delle province di Rovigo e Ferrara. Io credo che quella di oggi sia una cosa importante perché si va a professionalizzare l'apertura e la gestione delle strutture culturali su cui in questi anni abbiamo investito in maniera molto particolare, quindi da quest'estate in cui si comincerà a poter fruire di tutti i nuovi investimenti fatti dal Museo Rizzarda con la colonnazione in vetri all'archeologico, passando per le torri, il teatro e tutti gli altri punti che sono stati potenziati in questi anni, sarà per noi di fondamentale importanza avere una gestione all'altezza degli investimenti che sono stati fatti, quindi è un passaggio significativo per una città che vuole puntare molto sul tema del turismo culturale. Quando abbiamo visto il bando emesso dal Comune abbiamo visto la possibilità di proporre alcune iniziative nel senso che comunque ci dava ampio spazio di margine, di manovra a proporre attività culturali o attività comunque legate alla cultura e abbiamo fatto una serie di proposte sia per ogni sito culturale che è stato messo a bando di gara, ma anche attività collaterali che coinvolgono tutte le realtà museali oltre ad altri ulteriori eventi per un pubblico anche più ampio.